Siamo a Palazzo Cera, cuore del Gambellara Wine Festival, arrivato alla quindicesima edizione, dove ci sono delle aziende di eccellenza del territorio che presentano i loro vini all'interno di un concorso che si svolgerà oggi 27 settembre. Il Wine Festival sarà caratterizzato quest'anno anche da una particolare forma di cibo che si chiama street food, verrà regalato il cibo che si può mangiare per strada, oltre all'uva e oltre al bicchiere di buon vino. Siamo con Franco Cavallon, il direttore del Consorzio Tutela Vini Gambellara e chiediamo a lui come sta andando questa manifestazione. Molto bene, una grande affluenza di persone, siamo anche fortunati che la giornata di oggi è anche bella soleggiata, calda al punto giusto da non essere soffocante come il mese di luglio, ma soprattutto il bello è che la gente vede che quest'anno è una grande annata per l'uva garganega di Gambellara. Bella, rossa, matura, dolce, i carri dell'uva prima sono passati, la gente ha potuto assaggiare l'uva e capirà che quest'anno la vendemmia sarà un'ottima vendemmia. Ecco, quindi un'ottima vendemmia e anche delle aziende che qui presentano il meglio della produzione del territorio. Ci vuol dire qualcosa su queste aziende? Certamente, abbiamo il Consorzio Associati 15 aziende vitivinicole, alcuni di queste sono presenti qua a Palazzo Cera oggi a Gambellara Wine Festival con i loro complessivamente 40 vini in degustazione. Se mi permette velocemente vorrei dire anche quali sono le aziende che si sono distinte quest'anno con i migliori recioti. Prego, prego, ce ne dico pure. Ecco allora, per il recioto vivace il primo premio è stato vinto dall'azienda vitivinicole a Zoni Roberto, il secondo premio dall'azienda Grandi Natalina, recioto spumante, primo premio dell'azienda agricola Vignato Vergilio, secondo premio esecuo dalla cantina di Gambellara e della Zoni 1821, sul recioto di Gambellara Tranquillo, primo premio della cantina di Gambellara, secondo premio dell'azienda Assordato. Per il Gambellara Classico, che è il nostro fiero all'occhiello, primo premio della cantina di Gambellara, che si ripresenta ancora come migliore produzione, secondo premio dell'azienda agricola Grandi Natalina e dell'azienda agricola Vignato Vergilio. Il Gambellara spumante, le nostre bullicine secche, primo premio dell'azienda vitivinicola Zoni Roberto, secondo della cantina di Gambellara. Ecco una battuta finale a chi beve il vino di Gambellara? Beh, il vino di Gambellara bisogna provarlo per capire che è buono e se in compagnia si rimane felice e si vive in felicità.